Benvenuti a Master Shop, l'appuntamento giornaliero con i consigli che portano in casa vostra offerte commerciali di qualità e convenienza. Dopo una giornata di lavoro e di impegni, ce lo meritiamo un sogno su misura? Credo proprio di sì e questo sogno su misura ha un nome, Marion, la fabbrica di materassi in lattice che oggi vi propone le sue soluzioni per dormire. Sistemi di riposo personalizzabili direttamente senza intermediari. Guardiamole insieme. Sogni su misura è l'offerta cui Marion ha pensato per festeggiare 15 anni di grandi successi in tutta Europa. Genius è il materasso in lattice matrimoniale con rivestimento sfoderabile e lavabile in cotone. Oltre ad essere elastico ed ergonomico, genius è anche igienico e anallergico. Normalmente pagheresti questo materasso 468 euro. Oggi, grazie a doppio sconto che Marion ha deciso di applicare, lo pagherai appena 199 euro. Osserva questa rete, il suo nome è Tecnolift. Grazie a lei dormirai nella posizione che preferisci. Se soffri di russamento o di reflussi gastroesofagei sarà sufficiente sollevare la porzione testa per avere grandi benefici. Bloccando l'offerta Sogni su misura avrai diritto a ricevere lo straordinario omaggio che Marion ha selezionato per te. Il caldissimo piumino con rivestimento a sacco intercambiabile e set note abbinato è il regalo che non ti aspetti. Marion offre una vasta gamma di reti addoghe realizzate per assecondare le tue esigenze. Reti fisse, reti con alzata testa e piedi, manuale o elettrica. Il lattice è una sostanza naturale estratta da particolari alberi equatoriali noti come Vea brasiliensis. Con questa straordinaria sostanza diamo vita a Genius. Genius, oltre ad essere elastico ed ergonomico, è anche igienico e analergico ed è in grado di isolare perfettamente dai campi elettromagnetici. La bellezza ci rende felici e la felicità aiuta il riposo. Per questo Marion ha creato una collezione di giroletti dal design esclusivo. In pelle o in tessuto sfoderabile a te la scelta. Potrai visionare Inside, Luxury e tutti gli altri splendidi giroletti direttamente a casa tua con la visita gratuita di un consulente Marion. Genius, il materasso in lattice matrimoniale con zone di portanza differenziate, rivestimento sfoderabile e lavabile potrà essere tuo ad un prezzo incredibile. Il suo valore commerciale è di 468 euro, ma grazie al doppio sconto anniversario oggi potrai acquistarlo a soli 199 euro. Chiamando ora non ti impegnerai all'acquisto, chiederai solo la visita gratuita e senza impegno di un consulente Marion che ti farà toccare con mano la qualità dei prodotti che ti stiamo mostrando. Dunque riepiloghiamo, acquistando Genius, il materasso in lattice matrimoniale a soli 199 euro, eccezionalmente potrai avere Tecnolift a soli 49 euro e non solo, acquistando l'intero sistema di riposo riceverai in omaggio il piumino e potrai pagare tutto questo con 12 comode rate a tasso zero da 21 euro al mese. Chiama Marion, soluzioni per dormire. Ogni occasione è buona per cambiare, specialmente quando parliamo del bagno. Spesso questa voglia è solo estetica, ma quando iniziano i problemi per entrare ed uscire dalla vasca serve un'idea che ci aiuti. Oggi è qui con noi Lorenzo, che ha chiamato Pronto Vasca, lo specialista della vasca nella vasca. E che hanno sostituito la vecchia vasca con la nuova, con lo sportello e seduta in sole due ore. Ma è una bella cosa cambiare la vasca in sole due ore. È stato fantastico, il tutto con pulizia e velocità. E allora facciamo conoscere anche ai nostri amici Pronto Vasca. Sicuramente rimarranno soddisfatti anche loro. Pronto Vasca? Buongiorno! Questa è la risposta che sentirete quando farete il numero che vedete e che cambierà le vostre abitudini, specialmente se da un po' di tempo avete paura di scivolare, di farvi male quando dovete entrare nella vostra vasca per farvi il bagno. Ma oggi, se chiamate per informazioni il numero che vedete, avrete in sole due ore la vostra nuova vasca ad apertura laterale. Pronto Vasca, specialista della vasca della vasca con sportello e seduta, installa la vostra nuova vasca senza spaccare muri e piastrelle. Con Pronto Vasca non ci sarà polvere che gira in casa per giorni e giorni. Chiamate per prenotare la visita di un tecnico specializzato che verrà a casa vostra a prendere le misure per fornirvi la vostra vasca su misura. Perché grande o piccola che sia, Pronto Vasca la fa su misura per voi, con sportello a tenuta ermetica, con una comoda seduta e il fondo antiscivolo. Qui in piena tranquillità e soprattutto da sole e senza più l'aiuto di nessuno che vi aiuti ad entrare ed uscire, potete godervi finalmente il vostro bagno senza farvi aiutare da nessuno. E poi guardate che idea. Quando ci si fa il bagno inevitabilmente si bagna per terra. Questa parete a Bordo Vasca evita che gli spruzzi bagnino il pavimento e vi ripara dal freddo tenendo tutto il caldo all'interno della vasca. Con Pronto Vasca avrete la vostra nuova vasca ad apertura laterale in soli due ore. Ma per chi ama farsi la doccia e non vuole rinunciare alla vasca perché in famiglia c'è chi la preferisce, ecco la soluzione ideale per avere un pratico box doccia e non rinunciare alla vasca. Pareti alte fino a 192 centimetri per isolarvi completamente durante la doccia e proteggere dall'acqua il pavimento del vostro bagno. Un pratico box doccia accessoriato per darvi il massimo del comfort e della sicurezza. Una bella idea vero? Pronto Vasca, specialista della vasca nella vasca con sportello e seduta, utilizza la struttura della vostra vecchia vasca inserendo una nuova vasca fatta su misura oppure una nuova vasca con sportello a chiusura ermetica fatta su misura per voi in un tempo strabiliante, due ore, soltanto due ore per avere un lavoro fatto a regola d'arte. Pronto Vasca, installa solo prodotti di alta qualità, un prodotto italiano garantito 15 anni. Pronto Vasca? Buongiorno! Salire e scendere le scale può essere faticoso e non solo per colpa dell'età. Oggi è qui con noi Cinzia Bertino, testimonial della ThyssenKrupp in casa, che ci aiuterà a capire come la tecnologia ci può aiutare nella vita di tutti i giorni con un montascale. Allora Cinzia, perché dovremmo avere un montascale ThyssenKrupp in casa? Sai Sara, con il passare del tempo fare le scale può diventare faticoso e anche pericoloso. La sicurezza e la comodità nella propria casa sono importantissimi e l'installazione di un montascale permette chiaramente di ritrovare la mobilità di un tempo. Quindi il montascale ThyssenKrupp in casa consente di ritrovare l'autonomia tornando a muoversi sicuri nella propria casa, giusto? E certo, infatti numerosi studi confermano proprio che rimanere all'interno della propria casa ha un effetto positivo sulla salute. Quindi mi sembra di capire che un montascale ThyssenKrupp in casa sia l'ideale per chi cerca sicurezza, praticità ed eleganza. Poi la qualità insomma è in dubbio, no? Certo, hai ragione, infatti è proprio uno dei motivi per cui i montascale in casa sono così richiesti. Ed oggi tra l'altro anche i convenienti pensa che grazie alla detrazione del 50% gli amici potranno addirittura recuperare proprio fino al 50% dell'importo. Ciò significa che il montascale è in casa per accostare esattamente la metà. Quindi possiamo dire che un montascale ThyssenKrupp in casa migliora la qualità della vita? Sicuramente! E allora scopriamo insieme il montascale ThyssenKrupp in casa. La vita è una cosa straordinaria. Momenti che porterai sempre con te. Il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. È sorprendente come a volte basti una telefonata per migliorarla. Una telefonata al numero verde in casa, ad esempio. Consigliati da esperti, abbiamo scelto il montascale adatto alle nostre esigenze. Facile da installare e da usare, confortevole, con una dolcezza e silenziosità di movimento davvero sorprendente. Con la poltroncina montascale in casa adesso possiamo salire le scale comodamente, sentendoci sicuri. Il montascale in casa è l'unico con tecnologia brevettata ASL che permette di ruotare il sedile lungo il percorso risparmiando spazio e offrendoti sempre la posizione di seduta più comoda e sicura. Io ho scelto un montascale in casa. Ho scelto la libertà di muovermi in casa mia. Vuoi un consiglio? Scegli anche tu il montascale in casa. Dispositivi di sicurezza anti-urto ed anti-blackout, assistenza in tutta Italia vicino a casa tua e l'affidabilità di un grande gruppo. Sorprendente? Sì, anche nel prezzo. Oggi puoi averlo con piccole rate mensili, usufruendo della detrazione IRPEF del 50% che ti permette di recuperare la metà dell'importo. Sapete cos'è straordinario? Sentirsi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiama il numero verde 800 863 043. È in casa. Ti migliora la vita. Interessante, vero? Allora Cinzia, cos'altro vogliamo dire ai nostri amici? Comodità e sicurezza. Oggi sono a portata di mano con il montascale in casa. Telefonata al numero verde 800 863 043. Perché il montascale in casa ti migliora la vita. Oggi siamo in compagnia del signor Giuliano, che è venuto a trovarci per raccontarci di come è cambiata la sua vita da quando ha deciso di acquistare uno degli scooter Magic Sun Mobility. Allora, è tutto così diverso? Eh sì. Prima stavo sempre chiuso in casa perché non riuscivo più a fare la mia solita passeggiata. Ma con il suo scooter? Con il mio quattro ruote, ora vado dove voglio. Quindi è ripreso a frequentare gli amici, a fare la spesa? Eh sì, non rinuncio più ad uscire di casa. E allora scopriamo insieme gli scooter Magic Sun Mobility. Ben trovati con Magic Sun, l'azienda leader che da anni si occupa di mobilità e del vostro benessere. Rinunciate spesso a uscire di casa perché avete qualche difficoltà nei movimenti o semplicemente vi stancate troppo? Da oggi con i Mobility Scooter Magic Sun potrete ritrovare il piacere di uscire e vivere pienamente la vostra giornata. Magic Sun ha progettato tre diversi modelli di Mobility Scooter adatti a tutte le esigenze. Gaio, lo scooter pratico e versatile. Astro, il suo fratello maggiore. E Boston, lo scooter extra large. Ed eccolo, lo scooter Gaio, il più piccolo e divertente della gamma Magic Sun. Semplice da usare ed è il mezzo ideale per muoversi in totale comodità, sia all'interno che all'esterno della vostra abitazione. Ha braccioli e manubrio regolabili, sedile girevole e anche un pratico cestino porta oggetti, l'ideale per fare le piccole commissioni di ogni giorno. Gaio, grazie alle sue potenti batterie, ha un'autonomia elevata che vi permetterà di muovervi con serenità, in totale autonomia ed indipendenza. Inoltre può essere smontato con semplici gesti, caricato nel bagagliaio di qualsiasi automobili, per essere trasportato ovunque con la massima facilità. Per ricaricarlo basta inserire la spina in una normale presa di corrente e il vostro Gaio sarà pronto a portarvi in giro per ore e ore. E allora chiamate ora, provate Gaio direttamente a casa vostra senza impegno. Tutto diventa possibile con Magic Sun Mobility, anche grazie ad Astro, lo scooter che ti porta lontano, ideale per le uscite fuori porta. Grazie alle sue dimensioni alla sua straordinaria dotazione. È equipaggiato con un comodo poggiatesta, braccioli e sedile regolabile, manovrio a delta, luci indicatore di direzione e anche un pratico cestino portaoggetti. Inoltre, grazie alla sua potente batteria che addirittura si ricarica autonomamente nelle percorrenze in discesa, ha un'autonomia elevata che vi permetterà di muovervi senza preoccupazioni e senza fatica. Grazie al pratico indicatore potrete sempre tenere sotto controllo il livello di carica per godervi proprio il tragitto con tranquillità. Chiamate il numero in sovrimpressione. Questo è il momento giusto per acquistare uno scooter Magic Sun e potrete usufruire infatti delle agevolazioni fiscali. Avrete modo di toccare con mano la qualità Magic Sun direttamente a casa vostra senza impegno. Vi ricordo inoltre il ritiro dell'usato e la possibilità di avere pagamenti personalizzati. Magic Sun Mobility, soluzioni innovative alla portata di tutti. Vi è mai capitato di avere voglia di cambiare qualcosa per casa? Un mobile, un tavolino? Beh, alla nostra amica Monica è venuta voglia di sostituire la sua vecchia vasca da bagno con un modernissimo box doccia. Chissà che confusione in giro per casa. Ma no, guarda, con pronto doccia sono bastate pochissime ore per sostituire la mia vecchia vasca da bagno con il box doccia nuovo e senza sporcare. E vi hanno lasciato il bagno come prima? Perfetto, come nuovo. Allora vogliamo consigliarlo ai nostri amici? Assolutamente sì, guardiamolo. Grande novità sul mercato italiano, Pronto Doccia, l'azienda che con grande professionalità e a prezzi imbattibili trasforma la vostra vecchia vasca da bagno in un pratico e moderno box doccia. Chiamate subito l'848 780 810 e un consulente di Pronto Doccia vi consiglierà la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Soltanto 8 ore di lavoro e avrete un bagno da sogno. Con Pronto Doccia non occorrono muratori, imbianchini o piastrellisti e potrete usufruire del rimborso del 50% sulla ristrutturazione edilizia. Chiamate subito Pronto Doccia e dalla mattina alla sera con un lavoro fatto ad opera d'arte il vostro bagno sarà dotato di una splendida doccia completa del suo box. Guardate come si presentava questo bagno alle 9 del mattino. Per prima cosa i tecnici hanno rimosso la vecchia vasca per creare lo spazio dove collocare il nuovo piatto doccia in materiale ecologico e garantito per ben 15 anni. Prima di installare il box doccia viene posizionato un pannello in allufast, un materiale composto di ben tre strati alluminio politilene e alluminio per la massima coibentazione, garantito a vita contro l'ingiallimento indistruttibile antigraffio e facile da pulire. Il lavoro viene ultimato andando a posizionare tutti gli accessori come il soffione con doccetta e vi ricordo che questo splendido box doccia lo potete avere di qualsiasi materiale e con qualsiasi tipo di finitura e di cristallo che può essere sia trasparente che opaco. Soltanto 8 ore di lavoro e avrete un nuovo bagno da sogno. Con pronto doccia non occorrono muratori, imbianchini o piastrellisti e potrete usufruire del rimborso del 50% sulla ristrutturazione edilizia. Ma pronto doccia è ancora di più e oggi vi presenta Solution, il piatto doccia con il suo box studiato per gli anziani e per le persone diversamente abili. Il piatto doccia installato a filo pavimento permette l'ingresso con facilità con carrozzina e le molteplici aperture del box consentiranno di fare la doccia in completa autonomia. Il box doccia è corredato degli accessori che vi aiuteranno a muovervi con sicurezza come il maniglione o questa comoda ed elegante seduta. Chiamate subito pronto doccia e il benessere non sarà più un sogno. Bene, oggi il nostro appuntamento con Master Shop finisce qui. Grazie per essere stati con noi e ricordatevi che vi aspetto ogni sabato e domenica sulla 7 con nuovi consigli per i vostri acquisti. Ma se per caso doveste perdervi il nostro appuntamento sulla 7 ricordatevi che vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì ma sulla 7D.